Sei tu Beatrice 68? Si, sei in ritardo. Allora parti cazzo. Mi avevi detto che pensi spesso al dolore? Soprattutto se hai inflitto agli altri. Cantalax, I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real life wire. Psycho killer, che scherzi? Fa 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 bera. Fai sesso regolarmente? Si. Psycho killer, che scherzi? Fa 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 bera. Ma chiedevi ma scherzi? Ho! Grazie a tutti.